Allora, ragazzi, mi piacere tutto che io vi chiamo Gianluca Zamrotta, un beach boy famoso del mondo. Sto organizzando escursione, come l'Egitta che deve andare a Blue Safari, quello che si mangia la Dio proprio, come aragosta, cicale, gambe di coli, palamari, pesce, tutto, roba di mare, buonissimo. Allora, mi trovi quando venite in Zanzibar, io sono dal villaggio di pescatore, si chiama Uro, vicino al palumbo villaggio, c'è un vicino, un villaggio piccolo si chiama Samakiroci. Pure, mio numero di telefono è più 2, più 2, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 6, 25, 11, 72. Mi cerchi quando venite in Zanzibar, sono sempre, mi trovo sulla spiaggia vicino a Palumbo. Allora, pure c'è un negozio di mia sorella, si chiama Giulia, che fa trecini, tatuaggi, massaggi, pure le vendono la roba come pareo, sciarpo, tutto con buon prezzo. quando arrivate, non dimenticate, per passare almeno una chiata, così, fa buon prezzo. Grazie mille, tanti mi ritrovi, non dimenticate. 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 Grazie a tutti.